Se volete avere qualcosa che si materializzi nella vostra vita, la persona che volete diventare, manifestare qualcosa di nuovo nella vostra vita, qualcosa di potente o qualunque cosa, ovviamente prima dovete essere in grado di immaginare ciò che volete, la vostra immaginazione. La vostra immaginazione è solo vostra, potete mettere qualunque cosa nella vostra immaginazione, qualunque cosa vogliate metterci potete farlo, indipendentemente da tutto quello che dicono gli altri, indipendentemente da quello che vi dicono i sensi, indipendentemente da tutte le prove che magari dicono il contrario, voi nella vostra immaginazione potete mettere quello che volete. Quell'io sono che rappresenta ciò che volete diventare nella vostra vita e far sì che in questo modo diventi fruibile. Einstein ha detto una cosa molto famosa, l'immaginazione è più importante della conoscenza, la conoscenza è limitata, l'immaginazione invece abbraccia il mondo. E per poterne fare esperienza bisogna sperimentarla nella vostra immaginazione come un io sono, ma dovete essere in grado di sentire questo. Le nostre sensazioni sono quelle cose che hanno luogo nel nostro corpo. Neville dice, e ho questa citazione proprio appesa vicino al letto, dice, fate sì che i sogni futuri diventino un fatto presente assumendo l'emozione che avete quando il desiderio si realizza. Quindi qualunque cosa vogliate sperimentare nella vostra vita, ricordatevi, la vostra immaginazione è solo vostra. Quello che esiste, prima che esistesse, è stato immaginato. Quindi prima di esistere qualunque cosa deve essere prima immaginata. Harry David Trow ha dato la definizione più grandiosa di successo che io abbia mai sentito. Harry David Trow ha detto, se voi avanzate con fiducia nella direzione dei vostri sogni e cercate di vivere la vita che voi avete immaginato, allora incontrerete un successo inaspettato. Sarà il successo a inseguirvi, se potete mettere nella vostra immaginazione quello che volete attrarre. E iniziate a sentirlo, ascoltate Neville, questa è una delle citazioni che più preferisco dal potere della consapevolezza. Ciò che sentite di essere siete e vi viene dato ciò che siete. Dunque assumete la sensazione che sarà vostra e solo vostra, dove già siete in possesso del vostro desiderio e il vostro desiderio si dovrà realizzare. Dunque vivete nella sensazione di essere chi volete essere e così sarete. Ogni sensazione, ogni emozione crea un'impronta subconscia. E a meno che non sia controbilanciata da una sensazione più potente di natura opposta, si dovrà necessariamente esprimere. Le vostre sensazioni sono diverse dai vostri pensieri. Le sensazioni sono quello che è sperimentata nel corpo. La sensazione dominante tra due è quella che si esprime. Io sono sano. È un'emozione più forte del dire io sarò in salute. Si dice io mi sento in salute. Io mi sento bene, non determino io se sto bene sulla base di quello che dico su un pezzo di carta o sulla base di quello che dice qualcun altro là fuori. Io vivo la mia vita sentendomi dentro il mio corpo, sentendomi dentro che sono forte, sono capace, sono bravo. E questa non è una cosa che dico e basta, non è solo un'affermazione. Un'affermazione è un esercizio intellettuale. Questa invece è una conoscenza, un sapere spirituale che ho dentro. Io sto bene, io sono contento, io sono una persona prospera. Ma le parole usate da Neville vanno a livello subconscio. Ogni sensazione che avete lascia un'impronta subconscia sul vostro corpo e sulla vostra consapevolezza. Ora dovete capire come funziona la vostra mente subconscia. La vostra mente subconscia governa la vostra vita. Il 96-97% di tutto ciò che fate viene fatto come risultato della vostra mente subconscia. Quando la mente subconscia viene programmata, va avanti e reagisce a qualunque cosa la mente conscia ci abbia messo dentro. Avevo 18 anni. Ero nella marina degli Stati Uniti, ci sono rimasto per 4 anni. E mi hanno mandato a una scuola a Bembridge in Maryland per diventare un radiooperatore e un criptografo. E trascorrevamo un'ora al giorno, ogni giorno. Lo abbiamo fatto per le prime 3-4 settimane, usando la macchina da scrivere per imparare il codice Morse. La mente conscia, la mia mente conscia doveva programmare la mente subconscia. La mente subconscia, anche la vostra, è sempre in funzione. Siete lì, guardate un programma televisivo, vi siete alzati, avete preso il telecomando, avete acceso la televisione, avete sintonizzato il programma, siete andati a pranzo, siete andati in bagno, siete andati a lavoro, avete preso l'auto, siete andati a lavoro senza pensarci. Ecco tutto quello che accade nella vostra vita. Lo dico a tutti voi che siete presenti, siete arrivati qui, grazie alla vostra mente subconscia. Non dovete pensare a ogni singola cosa che fate, però c'è stato un momento in cui, per imparare, avete pensato con la mente conscia. Ecco perché la mente subconscia poi governa la vostra vita. Avevo 18 anni e stavo imparando il codice Morse. Questo è l'alfabeto, un pezzettino. Ho fatto dalla A alla P. Andate a verificare se l'ho fatto giusto. Sono passati 53 anni, ragazzi, e la mia mente subconscia continua a ricordarsi questo da 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 da, e voi fate la stessa cosa, anche se non usate il codice Morse, ma avete programmato la mente subconscia con una sorta di da 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 da, non sono bravo, non sono attraente, io non sono questo, io non posso far accadere le cose, e da 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 da, di 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 di, è ancora lì il programma dopo 53 anni, e quindi vivete la vita con questa programmazione subconscia, sempre in atto, con una consapevolezza che vi dice che non siete voi ad avere il controllo, non riuscite ad estendere o a trascendere questo modo di pensare, questa vostra mente subconscia viene impattata particolarmente dalle vostre emozioni, Se cambiate emozione, cambiate destino, un cambiamento di sensazione o emozione è un cambio di destino, scrivetevelo, attaccate il messaggio vicino al letto o in un posto dove lo vedete continuamente, io faccio la stessa cosa, voglio fare pratica di mettere nella mia mente subconscia questo assunto, Questa supposizione dell'emozione di ciò che voglio attrarre nella mia vita, l'emozione che provo come se questo fosse già esistente, e non penso solo questa cosa, ma la sento, la legge dell'assunzione ci dice, Cioè se questa assunzione è persistente, finché non diventa la sensazione dominante, la realizzazione di ciò che è ideale è inevitabile, prima dovete assumere l'emozione di un desiderio realizzato in tutti gli aspetti della vostra vita, e poi si realizzeranno. C'è una poesia di un grande poeta persiano, un poeta del Medio Oriente, si chiama Hafiz, si intitola Nella casa sull'albero, ne abbiamo una anche qui, e grazie a Daniel Lewinsky per la traduzione di questa poesia. Voglio leggere questa poesia e voglio che comprendiate questa poesia, è una delle poesie che preferisco in assoluto. Dice La luce un giorno vi aprirà, anche se la vostra luce adesso è una gabbia, per un seme divino, la corona del destino è nascosta e seminata in una pianura antica e fertile, di cui avete titolo, di cui siete proprietari, siete proprietari di un seme divino e della corona del destino. Nascosta in una pianura antica e fertile, il che significa, da qui siete venuti, questo siete, l'amore vi spaccherà, vi aprirà in una nuova galassia rigogliosa, anche se la vostra mente adesso è un mulo viziato. Arriverà una radiosità che dona la vita, la gratitudine dell'amico arriverà, o dice il poeta, o guarda di nuovo dentro te stesso. Perché io so che una volta sei stato l'ospite elegante di tutte le meraviglie del creato, prima che tu venissi a questo mondo, ascoltate bene, o guardate ancora una volta dentro voi stessi, perché io so che una volta siete stati l'ospite elegante di tutte le meraviglie del creato. Da un crepaccio sacro nel vostro corpo, un arco si eleva ogni notte e manda la vostra anima a Dio. Contemplate quello che canta, meraviglioso, dal punto lunare di osservazione dell'amore, lui conduce gli affari di tutto l'universo, mentre dà feste fantastiche in una casa sull'albero, nel vostro cuore. Questo è amore divino, ed è così che io amo voi.